10 5 4 3 2 1 vai 50 alla zebra sinistra 3 meno gira per destra 2 apre 30 destri destra 2 apre 30 destri giallo destra 3 in fila sinistra in destra 4 in fila sinistra 50 sinistra 4 lunga per destra 3 in due volte destra 3 in due volte sfiora 2 sfiora sinistra in sinistra 4 per destra 5 e i b rimposti a destra subito sinistra 3 tieni in fila sinistra per destra 3 per sinistra 3 gira 30 e sinistra 3 per destra 4 chiude 3 lunga chiude 3 lunga 100 sinistri destra al re in sinistra 3 più 20 stai a sinistra in destra 4 meno subito in fila sinistra in destra 3 subito in fila sinistra la zebra sinistra 2 gira sinistra 2 gira apre in destra 4 vai al muro in fila sinistra 4 subito scicanna entrata a sinistra scicanna entrata a sinistra scicanna entrata a sinistra ai tetti destra 5 30 tornante sinistro scende in destra 3 per sinistra 4 meno in destra 4 chiude 3 destra 4 chiude 3 è la casa sinistra 2 sfiora a destra vai per sinistra 5 imposta a sinistra in destra 2 destra 2 in fila sinistra e destra per sinistra 2 più chiude 2 più chiude subito a destra 4 corta 50 destra 3 gira via in sinistra 3 3 gira in sinistra 3 subito a destra 3 40 sinistra 3 vai per al palo sinistra 4 subito a destra 3 per imposta a destra subito a sinistra 2 in destra 2 chiude subito a sinistra 3 e cartello a destra 2 50 40 e imposta a sinistra per destra sfiora a destra 5 40 meglio di 3 Array in sinistra 3 per ritardo a destra 4 per Array in fila sinistra 4 su ponte 50 cambio strada sinistra 1 per sale sinistra 5 in due volte subito a destra 4 in sinistra 6 per sinistra 4 meno subito sale destra 2 subito sale in destra 2 100 le piante sinistra 4 subito a destra 3 per destra 3 per destra 6 50 agli alberi sale in sinistra 3 apre 100 sinistra 5 sinistra 5 lunga tieni su dosso ritardo a sinistra 4 subito a destra 2 subito a destra 2 subito a destra 6 50 50 a re in destra 5 lunga sale 100 in destra 3 meno 3 meno subito a sinistra 2 gira 50 sinistra 6 50 50 ritardo a destra 4 chiude 3 meno gira chiude 3 meno gira in fila a sinistra e destra veloce 50 stop buono si è incastrato il casco si è incastrato da qualche parte io voglia non riesco a girarmi come fa ad essersi incastrato? ogni tanto si incastra e sento dei colpi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti